a me me lo fai macchiato per favore il livello prima della gara ma deve essere un accoggio si, un po' di caffè e' un po' di caffè e' un po' di caffè che si rimorre che la ... si parla e' un po' di caccia e si ritrocca stasera 12 ore e 3 caffè normali tre normali allora uno, due due normali e uno macchiato chi è il driver di Chiesina Uzzanese? qui c'è una roba un driver di Giolli Montecatini un driver di Giolli Montecatini mentre questo è una maglia aperta lei un driver di Giolli Montecatini 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 ci sono altri che si fosse un'immagine di Giolli Montecatini e questo è un una cosa che nella torre